Per amore dell'Italia si possono fare pazzie, ma anche cose sagge. Voglio fare una riflessione, sono probabilmente destinato ad essere presto dimenticato, sbertulato, forse più di quanto non lo sia in questo momento, se è possibile. Probabilmente fra qualche anno nemmeno Dell'Utri mi saluterà più. E allora, in previsione di questo mio destino, di questo mio tragico destino... Preferisco fare un passo indietro per le stesse ragioni d'amore che mi spinsero a muovermi allora. Una pagina nuova di una storia nuova. È la stessa minestra di sempre. Ma quel che mi aspetta ora... Indire un concorso e invito tutti gli elettori a spedire tante e tante cartoline al concorso. Oggi sono Miss Italia. Dice perché farà così? Perché è Miss Italia? E ci scommetto che fra due anni si parlerà della svolta di Miss Italia. È colpa nostra. E ti ringrazio io per questo sfogo che mi hai consentito. Qui nel telefono ci scommetti che questo è Obama, che ieri è stato molto sbrigativo, sicuramente oggi si è pentito e mi richiama. E ora per dare un senso al nostro discorso, per ricordarci di cosa e per chi stiamo parlando, break pubblicitario. Forza, vita mia mia, che siamo in tanti, ma crederci nella tua storia, un'altra storia c'è, la scriveremo noi con te. Siamo sicuri che il nostro futuro sia in un'unione più solita e interdipendente. Brascio 39 aperto!